Perché è questo morbo del secolo? Un morbo del secolo perché storicamente il cancro era una malattia abbastanza rara, molto rara. Qualcuno dice ma non la sapevano diagnosticare, in realtà la sapevano diagnosticare molto bene. I medici di un tempo erano molto bravi, molto bravi. Contestualizziamo, qual è il tempo? Il tempo è fino all'arrivo di tante apparecchiature che hanno preteso di sostituire il medico. Oggi il medico fatica a fare diagnosi senza l'aiuto, senza l'appoggio di apparecchiature, anche complesse, estremamente complesse, in cui lui, medico, non è intervenuto, perché sono degli ingegneri, sono dei fisici che progettano queste apparecchiature. Io stesso ho progettato varie apparecchiature di questo genere che aiutano molto il medico, ma dall'altra parte gli tolgono anche la capacità di diagnosticare. Io ricordo tantissimi anni fa quando uscirono i primi elettrocardiografi diagnostici, facevano diagnosi, a parte il fatto che commettevano una serie infinita di errori, però toglievano al medico il peso di leggere l'elettrocardiogramma e quindi piano piano il medico disimparava a fare il medico. Il medico di una volta, il medico che oggi per esempio lavora in condizioni disagiate, nella giungla, non ha apparecchiature ed è costretto a fare diagnosi senza aiuto di delle analisi, senza aiuto della radiografia, senza aiuto della TAC. Una volta il cancro si sapeva diagnosticare molto bene. Una volta intorno al 1000? Diciamo per tutto l'800, anche per buona parte del 900, per i primi anni del 900. Poi cosa è successo? Poi è successo che piano piano arrivano le apparecchiature, le diagnosi, si fanno lo stesso, arrivano le diagnosi strumentali, viene diagnosticato ugualmente il cancro, con precisione, addirittura queste apparecchiature consentono una cosa che una volta non era possibile, cioè di essere molto precoci nella diagnosi. Se io so usare l'apparecchiatura, oggi c'è un'infinità, un ventaglio enorme di apparecchiature, io devo saper scegliere quale apparecchiatura, devo sapere leggere quello che l'apparecchiatura mi dice, perché non è che mi parla sempre in italiano, mi parla nel linguaggio suo, quindi io devo andare a interpretare quello che mi dice. Bene, se io sono capace di tutto questo, riesco a essere molto precoce nella diagnosi, e la precocità è fondamentale.